In questo video parleremo del modo più semplice e veloce per incrementare il nostro business e lo facciamo con un esempio e con una sequenza. Da dove incominciare? Ora ti farò vedere quattro cose che un'azienda, un professionista deve fare. Sono tutte cose importanti, tutte e quattro. Tra queste quattro attività che tu potresti fare ne puoi scegliere una sola e una soltanto. Vediamole in sequenza. La prima, fidelizzi i tuoi clienti. La seconda, sviluppi nuovi prodotti e servizi da proporre ai clienti che hai già. La terza, sviluppi nuovi clienti ai quali proporre i prodotti o servizi che hai già. E infine la quarta, diversifichi per proporre nuovi prodotti a nuovi clienti. Dovendo scegliere tra una sola di queste quattro opzioni, che ripeto sono tutte importanti e un'azienda deve fare sempre, quale sceglieresti?